Ciao a tutti e benvenuti alla 3D Graph, io sono Paolo e sono qui per mostrarvi anche quest'oggi un'altra nostra nuova invenzione. Sì, perché noi qua ne inventiamo veramente una al giorno. Quella che vedete alle mie spalle, eccola qua, è una tenda. Abbiamo realizzato queste tende, ve le faccio vedere anche da questa parte, seguitemi, eccola qua. Queste sono delle tende, vedete, che ritornano al loro posto, sono molto molto belle. Vi faccio vedere anche questa, eccola qua, passo da questa parte, qui ne abbiamo un'altra. Sono delle tende in PPC, sono lavabili e sono soprattutto personalizzabili. Eccola, vedete, apro, salutiamo anche Katia, ciao Katia. E vi faccio vedere un'altra tenda anche qua, pronta per essere installata. Eccola qua, vedete? Queste, dicevo, sono le nuove tende della 3D Graph, sono personalizzabili nei colori, nelle immagini. Ne passiamo un'altra, eccola, vedete? E nelle misure. Volete farvi una tenda per dividere un ambiente lavorativo di 3 metri per 2 metri? Non c'è problema, per 5 metri, per 10 metri? Non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Chiamateci, mandateci un messaggio, richiedete un preventivo, saremo lieti di darvi un prezzo che sicuramente vi stupirà, perché costano veramente poco e sono molto 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 belle. Ciao a tutti da Paolo, della 3D Graph.